Bentornati. Allora, Beatrice Venezzi bene o male fa sempre parlare di sé. E se consideriamo valido il famoso detto parlatene male purché ne parliate, alla fin fine questo fa il suo gioco. Allora, specifico che io non ho una posizione né pro-Venezzi né contro-Venezzi. E non ce l'ho non per una sorta di democristianesimo militante, ma semplicemente perché non l'ho mai vista dirigere in concerto. Naturalmente l'ho visto mille volte, mille snippet, mille estratti da suoi concerti, ma insomma non è che si possa valutare un direttore vedendolo dirigere 20 secondi, nel senso a meno che non sia un disastro totale, un dilettante totale, allora quello lo sgami anche in 5 secondi, ma normalmente se un direttore ha un gesto corretto non basta vederlo 10 o 20 secondi in un video per farsi un'opinione su di lui. È una cosa diversa da quello che succede per esempio con un cantante, un cantante dopo un minuto che l'hai ascoltato sai quasi tutto quello che hai bisogno di sapere su di lui. Sul direttore no, anche perché non dimenticate mai un piccolo dettaglio, il lavoro vero del direttore non è il concerto, sono le prove. È alle prove che un direttore dimostra il proprio valore, ed è alle prove che l'orchestra ti stima o non ti stima evidentemente. Allora cosa è successo? Dopo un concerto della Venezia a Palermo è uscito questo articolo, vi leggo il titolo che recita Palermo, gli orchestrai della sinfonica stroncano ben attrice, Venezzi, virgolettato, non sa dirigere. Allora, che uno legge questo titolo, è un titolo che non lascia grandi spazi per interpretazioni. Io come vi ho detto ho una posizione, non ho una posizione né pro né conto, cerco però di analizzare i fatti. Allora, la prima cosa che faccio io, e non mi fermo mai al titolo perché so benissimo che i titoli, molte volte sono del tutto forvianti. Legge nell'articolo dice i musicisti dell'orchestra sinfonica siciliana stroncano Beatrice e Venezzi, dopo essere stati diretti da lei per due serati al Teatro Politeama di Palermo, a riportare le critiche a Repubblica che cita tre orchestrali molto critici verso la direttrice. E già qui stride qualcosa, perché se una rondia non fa primavera, tre orchestrali non fanno una critica, soprattutto perché in orchestra ci sono delle gerarchie precise. Se ci deve essere una posizione precisa dell'orchestra, deve essere presa dal primo violino o dal rappresentante sindacale, qualora le due figure non coincidano, in molte orchestre non coincidono. Per cui non voglio dare all'opinione di tre persone, tre professori d'orchestra che avranno sicuramente ovviamente un'opinione più che circostanziata, non voglio però dar loro, come dire, la volontà e l'opinione di tutta l'orchestra. Poi c'è un atto in virgolettato, il flautista che dice la scena se l'è presa lei, ma il lavoro sporco lo abbiamo fatto noi orchestrali. Che di per sé non vuol dire niente, nel senso vuol dire ricordare questo professore che questa è la storia della direzione d'orchestra, in cui il direttore, esattamente come l'allenatore nel pallone, prende più meriti di quelli che ha e prende più colpe di quelle che ha. E se dobbiamo dire la tutta, spesso sono più i meriti delle colpe che prende. Però voglio dire, è quasi sempre così, è quasi sempre così. Quindi di per sé non è una critica circostanziata. O il professore mi dice, e non ho motivo di dubitare della sua competenza e della sua serietà. In questo punto è successo questa cosa a cui il direttore, in questo caso la direttrice, ma lei vuole essere chiamata direttore, non ha saputo porre un rimedio tecnico. Abbiamo dovuto intervenire noi in l'orchestra. Questa cosa può succedere evidentemente. Ecco, però vorrei qualche dettaglio in più. Dopodiché, sempre nell'articolo dice, il flautista racconta che la sinfonica si è dissociata dalla direzione orchestrale. Cosa però non vera, perché ripeto, è un'opinione di un numero limitato di professori d'orchestra e non dell'orchestra nella sua totalità e con la sua ufficialità. Per cui Beatrice Venezzi da sempre divide. Qualcuno dice che paga lo scotto del fatto di essere donna in un ambiente tipicamente maschile e di essere dichiaratamente di destra in un ambiente storicamente di sinistra. Un po' anche da sé che sia vero, anche se chiamiamolo pagare lo scotto, visto che dirige praticamente ovunque, insomma, per cui se queste due caratteristiche, cioè di essere donna e di destra, sono un limite, insomma, non è male come limite. Però sempre a tornare alla questione siciliana, il primo violino dichiara, virgolettato, una professionista siede e preparata che ha voglia di lavorare e di proporre le sue idee. Allora, ripeto, io non sono né pro né contro, perché banalmente, non avendo mai vista dirigere e soprattutto non avendo mai vista concertare, non ho un'opinione e quindi non parlo di cose che non conosco. Se dovessi dirvi dei pareri che ho raccolto in giro, fatto da professori d'orchestra e da altri musicisti che l'hanno vista dirigere o l'hanno vista lavorare, c'è un range abbastanza ampio. Non ricordo francamente che qualcuno me ne abbia parlato come di un fenomeno, devo dire la verità. Qualcuno mi ha detto che è una professionista comunque seria, preparata, e che fa professionalmente il suo lavoro. Altri me ne ho parlato in maniera così, un po' senza infamia e senza lode, qualcun altro me ne ha parlato in maniera spiccatamente più negativa. Quindi c'è chi la critica e chi la difende, come l'amico Enrico Stinchelli, insomma, che a spada tratta la difende da lungo tempo, anche se mi sembra che lei sia abbastanza strutturata e abbia le spalle abbastanza larghe da difendersi da sola. Allora, fin fine, qual è la questione alla base di tutto? Alla base di tutto ci sono due aspetti a mio modo di vedere. Innanzitutto il fatto che le sue aderenze politiche l'hanno sicuramente aiutata nella carriera. Però se dobbiamo essere un minimo obiettivi e dovessimo cominciare a fare l'elenco dei direttori che hanno fatto carriera perché erano militanti della parte politica avversa negli anni scorsi, insomma, se facciamo l'elenco non finiamo veramente più. La seconda questione è una questione legata al mercato. In Italia abbiamo tanti bravi direttori. Io conosco almeno due, tre direttori non bravi, strepitosi, che non dirigono in luoghi adeguati alle loro capacità. Chi è all'estero, chi dirige in Italia ma magari non propriamente in Serie A, eppure sono dei musicisti strepitosi. E queste sono tre che conosco io ma insomma ci sono tantissimi ottimi professionisti. Per cui mi rendo conto che come accade anche in altri settori artistici, vedere una persona giovane, probabilmente una buona professionista senza essere un fenomeno che passa davanti a musicisti di livello probabilmente più alto, mi rendo conto che questa cosa dia fastidio. Però è la legge del mercato, nel senso non si può fare questo lavoro e per questo lavoro intendo il lavoro del musicista senza mettere in conto questa cosa, senza mettere in conto che qualcuno ti passerà davanti, senza mettere in conto che non sempre è il più bravo a far carriera e per quanto possa dare fastidio a questa cosa è un dato ed è un fatto in cui bisogna fare assolutamente i conti. Per cui concludendo parlatene male purché ne parliate. questa cosa comunque fa il gioco di Beatrice Venezzi che io spero veramente di poter seguire un giorno di poter vedere un giorno ma non tanti in un concerto mi piacerebbe veramente vedere come concerta come affronta come affronta una prova. Dopodiché quando questa cosa dovesse succedere farò se vi interesserà un altro video e dirò la mia spassionata e diretta opinione su quello che avrò visto e avrò sentito. Alla prossima!